Sì, noi abbiamo entrambi frequentato il conservatorio, abbiamo fatto gli studi classici e siamo stati sempre amici e a un certo punto era il lontanissimo 1996 quando Gianni suonava la fisarmonica anche all'epoca, per cui ci siamo trovati e ho detto perché non mettiamo su un duo pianoforte e fisarmonica. Bene, la nostra musica prende soprattutto spunto dal genio che è stato Astor Piazzolla, il quale è considerato in tutto il mondo il padre di questa musica del nuovo tango che sicuramente hanno preso un piccolo spunto dalla musica di Piazzolla ma che però portano quel sapore molto forte dell'Italia e cioè della melodia, l'Italia è il paese del bel canto. Perché il duo noi la preferiamo come formula in quanto c'è un interplay tra i due musicisti molto forte. Ormai abbiamo un'intesa così forte e tutto il lavoro, lo studio cameristico, la conoscenza di uno e dell'altro è così forte che andiamo a feeling sentendo la musica. Che poi è tra l'altro secondo me è la bellezza della musica, la sorpresa che ci può essere in un'esecuzione. Ma questo però può succedere solo quando si suona insieme da tanti anni. Grazie a tutti.